Ciao, sono Lorenzo Marconi, sono lieto di presentarti questo nuovo videocorso Consulenti di successo che Roberto Re ed io abbiamo realizzato come strumento di formazione per il promotore finanziario e il consulente di successo. Il motivo di questo videocorso è che troppa formazione viene fatta sulle vecchie tecniche di vendita e sui prodotti finanziari, troppa formazione tecnica e poca importanza viene data alla comunicazione, alla relazione, alla motivazione. Noi invece abbiamo voluto creare un prodotto che non c'era, un videocorso che tu puoi fare in qualunque momento con dei test, con dei manuali di apprendimento e che sono sicuro che sarà un ottimo strumento per migliorare le tue performance di vendita e di consulenza presso la clientela. Ho chiesto a Roberto Re di affiancarmi in questo corso perché Roberto è il numero uno in termini di corsi per motivazione, comunicazione, relazione e abbiamo pensato di realizzare questo prodotto, un prodotto che onestamente non c'è sul mercato, un prodotto appositamente costruito modularmente proprio per creare un consulente di successo, un promotore finanziario proattivo, volitivo, che ritrovi l'autorevolezza del proprio ruolo, la voglia di andare dai clienti e che sicuramente grazie a questo videocorso non mancherà di ottenere i successi che merita in questa difficile professione. Ti esorto quindi a non perdere questa bellissima opportunità partecipando a questo videocorso per la tua crescita personale e diventare insieme a noi un consulente di successo.